Ciao a tutti ragazzi, mi sono venuti su questo mobile, io sono potuto oggi faremo un video siamo su d'orso e ma ci sono i mostri liberi praticamente questo gioco ci permette di trasformarci in mostri comunque, oddio ragazzi, scusate se con la testa è tutto strano non ho capito il motivo è leggermente bugato sto gioco, leggermente vabbè con l'altro ragazzi a tutti trema la mano ma la testa è tipo tutto normale boh, non ho capito sinceramente oggi ci trasformiamo sinceramente non ho capito oggi ci trasformiamo ragazzi nei mostri di dors iniziamo subito allora, con questo pulsante qui, ragazzi, lo vedete most ci sono i vari mostri si scusate che chiudo qua la chat ok ci sono i vari mostri di dors ok ci trasformiamo in rush che c'è scritto che adesso sto fiamminando non ci vedo sto fiamminando qui dovrebbe essere scusate perché è tipo troppo chiara la scritta e non è che si vede tanto bene oddio che paura mi sono spaventata da sola sono pazza cioè questo qua sarebbe rush ragazzi soltanto a me mi ha fatto veramente paura la prima volta che mi ho incontrato perché non fa cioè non è una cosa bella secondo me tipo fa ansietta perché subito vedi tipo le luci tutte per fallare dopo ti viene poi se tu tipo io ragazzi mi capito di stare in una stanza dove non c'erano armadi ci sono tipo c'è un adesso non mi ricordo quanti quanti ce ne sono tipo lui c'era era tipo il dito di noi io mi stavo spaventando come non so che cosa infatti tipo sono morto mi sbaglio vabbè mi dispiaciuto poi i morph e ok facciamo questo poi ragazzi che sarebbe tutto scritto ma non puoi in che senso ah praticamente ragazzi questo qua non era il mosto quello che tipo ti rincorreva cosa del genere oddio mi sono tipo ho visto il mosto cioè ragazzi ho visto il mosto scusate ragazzi se ti non mi viene da dire giù perché la mia mia amica io la sento sempre quindi scusate guardate che forte fa un po' di ansietta secondo me cioè non è sempre non è bello per niente che cosa è sta cosa che cosa è un balletto è peggio del glitch mamma mia allora morph ti trasformiamo in questi ragazzi che io sinceramente non ho ancora capito chi è boh si sa beh è un passo indietro ok un passo indietro che cosa mi viene da dire non lo so ragazzi sinceramente boh soltanto io non capisco il senso di questo mostro qui vai lì non mi piace tantissimo infatti ok ragazzi ci dovrebbe essere questo ma facciamo per ultimo dopo vi spiegano il mio motivo ora c'è error che è vero ricordate il tipo glitch questo si che è tipo cosa sta facendo tipo salta si questo qua è glitchato come non so che cosa si chiama glitch lo capisco però error vabbè ci sta ok ora mi trasformo in questo qui ineguardo tornando per secondi ma non era tipo quello che va avanti indietro adesso non mi viene il nome ragazzi scusatemi oddio che brutto io non l'ho mai visto in faccia ed è brutto fortemente io ho visto soprattutto la luce perché tipo mi nascondo negli armadi non si vede comunque la faccia madonna anche brutto 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 forte poverino poi c'è l'altro quello quello là presente quello che fa tipo così ecco me lo ricordavo benissimo guarda me lo ricordo perfettamente mamma mia che brutto anche questo ragazzi non è che scherza tanto cioè io ragazzi tipo prima volta che mi sono preso nel gioco mi sono preso in falto perché sentivo tipo così perché ti perché fai ragazzi potrebbe fare qualcos'altro insomma potrebbe fare tipo così ci potevo urlare non è difficile ora c'è questo mostro qui the figure attento attento a non far rumore ragazzi ma non era tipo quello cieco ma quello che sentiva benissimo lui dovrebbe essere quello cieco perché io non lo so se era tipo quello cieco e non sentiva cioè quello che quello che era cieco e sentiva bene oddio poi non so se è giusto ma comunque è brutto forte è brutto forte ragazzi a me non mi è mai piaciuto questo mostro perché soltanto a me sembra tipo sarean head sarean head so che è più alto ragazzi ora non c'è prima volta tipo mi hai dato questa idea qui insomma è brutto completamente ora ragazzi che ho finito i mostri manca il mio preferito The Ice ultima occasione per guardarmi ok ecco di qua allora The Ice ragazzi è un mostro che io adoro non so il motivo mi piace veramente tanto come è fatto e lo so che è un occhio sono degli occhi ragazzi che formano un occhio gigante vedete a me piace poi non si sa a me veramente piace e secondo me è un mostro carino poi non è che fa tanta paura quando tu lo vedi in film ti ti finia un po' di però tipo si può riconoscere molto spesso perché vedi questa luce viola luce blu così del genere la vedi cioè lo vedi è un mostro non è che comunque mi piace ragazzi io se mi ricordo bene tipo questo mostro se tu lo guardavi lui tipo ti faceva del danno perché sono degli occhi e non dovevi guardarli se mi ricordo bene comunque ragazzi io adesso vi saluto rimango con le eyes quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao